Il lonfo Il lonfo non va terga e non gruisce, ma molto raramente barigatta. Quando soffia il bego, abisce bisce, stilenca un poco e gnaggio s'archipatta. Ora vi rassicuro subito, non sono completamente ammattita. Quello che ho fatto è stato recitarvi una breve poesia, una poesia metasemantica, tratta dalle fanfole di Fosco Maraini. Fosco Maraini le definiva appunto delle poesie metasemantiche, ovvero delle poesie che sono in grado di comunicare qualche cosa andando oltre il significato comune delle parole. Infatti, io scommetto che anche se la maggior parte delle parole che ho utilizzato non avevano nessun senso, voi ve la sarete creata un po' un'immagine di questo lonfo, tutto frusco e pieno di lupigna, proprio come ce lo descrive Fosco Maraini. Cose molto simili a questa le avrete viste ad esempio nel teatro di Dario Fo, nei film di Chaplin o anche in televisione con Mr. Bean o Pingu, tutte situazioni nelle quali noi siamo esposti praticamente a dei suoni che di per sé sono privi di significato, però se messi all'interno di una struttura semilinguistica, di una cadenza e di una ritmica molto simile a quella del linguaggio, ci rendiamo conto che sono in grado di trasmettere comunque un significato molto chiaro a chi ci ascolta. Tutto questo ci fa capire come il linguaggio e la comunicazione non sono esattamente la stessa cosa, però sono estremamente interconnessi tra loro. D'altronde comunichiamo di continuo e non necessariamente con delle parole. Si stima che tra il 70 e il 90% della comunicazione umana sia completamente non verbale. Tutto di noi comunica, comunica il modo in cui ci tagliamo i capelli, ci vestiamo, camminiamo su un palco, il modo in cui siamo vicini o lontani da un'altra persona e il modo in cui le rivolgiamo uno sguardo. E tutto intorno a noi ci comunica. Basta pensare che al nostro cervello è sufficiente solo una frazione di secondo per guardare il volto di un'altra persona e capire se è triste o gioiosa, se è felice di vederci o arrabbiata con noi. D'altronde la comunicazione non è una prerogativa dell'essere umano. Ci sono tante altre specie animali che sono in grado di mostrare delle forme di comunicazione. Le formiche, ad esempio, utilizzano scambi di messaggi che possono essere tattili o anche sonori per comunicare dov'è il luogo in cui si trova un cibo o anche in cui si trova un pericolo. Le api utilizzano una speciale danza per comunicare sempre il luogo in cui si trova un cibo o anche la sua forma, la sua sostanza. Tuttavia esistono delle nettissime differenze nel modo in cui comunica un animale e in cui comunica l'animale essere umano. Ad esempio, queste forme di comunicazione che vedevamo finora non sono intenzionali. Difficilmente vedremo un'ape che punta ad un'altra ape e fa, ehi, lo sai che lì ho visto proprio un gran bel pezzo di fiore? È molto diverso. Se vogliamo andare poi ad analizzare quello che è il linguaggio fatto proprio di parole diversi studi hanno mostrato come, ad esempio, uno scimpanzé, se allevato all'interno di un nucleo familiare umano è in grado di acquisire un certo numero di parole di utilizzarle per comporre una frase e comunicare un messaggio molto molto semplice sia attraverso proprio una sorta di voce, dei suoni, possiamo dire sia attraverso l'uso del linguaggio dei segni. Tuttavia, mentre uno scimpanzé di circa sei anni maneggia 130 parole un bambino della stessa età ne maneggia 14.000. Non dobbiamo però pensare che la differenza fra il linguaggio degli esseri umani e quello finora osservato negli animali sia quantitativa perché l'utilizzo del linguaggio è molto più del mero possesso delle parole. Noi utilizziamo il linguaggio per comunicare di tutto, di noi stessi e delle altre persone. Lo utilizziamo per comunicare qualche cosa che è nel qui ed ora ma anche che magari fa parte del passato, del futuro o che è completamente frutto della nostra fantasia come una poesia, ad esempio. Inoltre, il linguaggio negli esseri umani ha un'importantissima funzione anche di coesione sociale. Difficilmente possiamo immaginare di vedere una formica che va dalle sue colleghe formiche a lamentarsi delle dure condizioni di lavoro a cui è sottoposta. Mentre invece noi esseri umani siamo bravissimi ad andare dai nostri amici a lamentarci di tutto quello che ci è capitato nelle nostre vite. Il linguaggio, se lo guardiamo poi da una prospettiva neuroscientifica possiamo dire che è strettamente legato alla nostra capacità di ragionare e di pensare. Ora, non dobbiamo pensare che esistono delle girarchie di complessità fra lingue semplici e lingue complesse né fra lingue ufficiali e lingue dialettali però diversi studi hanno mostrato come ad esempio chi parla più di una lingua ha anche una memoria più lunga o è in grado di risolvere problemi in modo più creativo. Se guardiamo al neurosviluppo sappiamo benissimo anche dall'esperienza di vita quotidiana come i bambini iniziano ad utilizzare un vero e proprio linguaggio verso la fine del primo anno di vita e questo succede non per caso succede perché è proprio allora che sono riusciti ad avere una struttura cognitiva e anche semantica complessa al punto tale da permettere l'implementazione di questo linguaggio. Linguaggio e pensiero non sono quindi esattamente la stessa cosa sono molto interconnessi ma non dobbiamo pensare che però in assenza di linguaggio ci sia anche assenza di pensiero. Esiste una condizione nota come afasia globale che affligge chi ha subito una lesione alla corteccia temporale sinistra che è quella parte del nostro cervello che presiede alle nostre capacità linguistiche. In questa condizione i pazienti che ne sono affetti si trovano nella totale incapacità sia di comprendere che di produrre il linguaggio. Tuttavia queste persone non smettono di ragionare non smettono di pensare sono in grado di empatizzare con i propri cari sono in grado di apprezzare della buona musica e anche di risolvere un problema logico. Linguaggio e pensiero quindi non sono la stessa cosa ma sono interconnessi. Potremmo dire che questa interconnessione è data da un misto di biologia e ambiente. La biologia ci fornisce le basi che ci permettono sia di poter apprendere un linguaggio che di poterlo usare ma il modo in cui noi poi utilizziamo questo linguaggio dipende estremamente dall'ambiente. Plasma potremmo dire ed è a sua volta plasmato dall'ambiente. Numerose evidenze infatti sottolineano come la lingua che parliamo ci dà le parole che ci servono per categorizzare e quindi interpretare il mondo che ci circonda. Ad esempio una persona italiana come me riesce molto più velocemente a distinguere tutte le sfumature del colore che possono andare dall'azzurro fino al blu in una frazione di tempo abbastanza rapida rispetto ad una persona madrelingua inglese che invece utilizza solo la parola blu per descrivere tutte queste possibili sfumature quindi sia quella più chiara che quella più scura di questo colore. E questo avviene proprio in virtù di questa intrinseca connessione fra quella che è il bagaglio linguistico che ci portiamo dietro e quella che è la nostra esperienza percettiva. Infatti questo tipo di evidenze ci mettono in mostra come questa interconnessione non si verifica solo in qualcosa di estremamente semplice basilare come appunto la percezione del colore o la percezione di una forma ma anche in funzioni cognitive molto più complesse come ad esempio la capacità di orientarci nello spazio di orientarci nel tempo e perfino di provare delle emozioni le parole che il nostro bagaglio linguistico ci mette a disposizione per descrivere le emozioni determinano tantissimo sia di come noi stessi le viviamo in prima persona sia di quanto ad esempio siamo più o meno disposti a condividerle esternarle nei confronti delle altre persone e tutto questo è frutto è evidenza proprio dell'interconnessione continua che c'è fra biologia e ambiente il linguaggio quindi getta le basi del nostro pensiero ma la relazione è bidirezionale perché non determina e influenza solo il nostro pensiero ma anche il pensiero di chi ci ascolta io potrei descrivere uno stesso evento con parole diverse e trasmettere due messaggi completamente opposti se ad esempio io dico che Patrizia è in ritardo mi sto limitando a descrivere un fenomeno un evento se io invece dico che Patrizia è una ritardataria sto dicendo molto di più sto insinuando nella mente di chi mi sta ascoltando che quella non è la prima volta che è successo e che probabilmente capiterà ancora una volta in altre parole sto insinuando sto suggerendo una qualità permanente di quella persona e non a caso stereotipi e pregiudizi sono trasmessi soprattutto attraverso il linguaggio ora badate bene spesso questo tipo di espressioni noi le utilizziamo in maniera del tutto spontanea e inconsapevole ma non dobbiamo dimenticarci del fatto che possono essere usate in maniera completamente consapevole proprio per manipolare il nostro pensiero ad esempio è noto che io posso aumentare il consenso di un pubblico compiacente utilizzando delle parole e dei verbi che rimandano a qualcosa di eterno e immutabile così come io invece posso ridurre il dissenso se sto parlando con un pubblico che ha opinioni completamente diverse dalle mie utilizzando invece delle parole che si riducono al qui ed ora che mi sembrano assolutamente convertibili nel giro di poco tempo all'interno di un'aula di tribunale l'avvocato della difesa dirà che Andrea ha dato uno schiaffo mentre l'avvocato dell'accusa dirà che Andrea è una persona violenta purtroppo però questi non sono dei banali esempi ma sono delle realtà diversi studi hanno dimostrato come operazioni linguistiche di questo genere sono in grado di influenzare tanto il consenso politico quanto il giudizio di colpevolezza o innocenza di una persona in un'aula di tribunale un qualche cosa che dovrebbe dipendere solo dai fatti e non dalle parole che vengono utilizzate per descrivere quei fatti il linguaggio ha il potere di plasmare la nostra realtà e di insinuare idee all'interno della nostra mente nel film Inception Christopher Nolan si chiede attraverso le domande le parole di Leonardo Di Caprio qual è il parassita più resistente al mondo e la conclusione alla quale giungono è che non è un virus o un batterio ma è un'idea un'idea perché un'idea una volta che ha preso piede nel nostro cervello è quasi impossibile da eradicare e la cosa più sorprendente è che per instillare un'idea è sufficiente una parola provate a non pensare ad un elefante o alla posizione che in questo momento ha la vostra lingua mentre vi sto dicendo di non farlo è praticamente impossibile ora non mi dovete rispondere ma qual è l'immagine che si crea nella vostra mente se io vi dico passeggiatore oppure se io vi dico passeggiatrice se io vi dico figlio di una buon uomo oppure figlio di una buona donna il linguaggio ha un grande potere e come tutti i supereroi ben sanno da grandi poteri derivano grandi responsabilità proprio per questo dobbiamo essere costantemente consapevole delle parole che utilizziamo innanzitutto nei nostri pensieri e inoltre nelle interazioni che noi abbiamo con gli altri le parole possono essere in grado di permetterci di valicare i confini politici religiosi e culturali ma possono anche innalzare muri e barriere laddove questi muri e queste barriere dovrebbero essere distrutti invece proprio per questo dobbiamo chiederci costantemente quali sono le parole delle quali vogliamo circondarci quali sono le parole che noi vogliamo utilizzare per creare una narrativa costruttiva e positiva che riesca a guidare sia noi stessi che le persone che ci circondano verso il tipo di mondo che vogliamo contribuire a costruire e ad avere intorno a noi grazie 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 a tutti